Bene, riprendiamo il nostro percorso che ci vuole accompagnare a capire la rivoluzione scientifica che avviene nel 600, nel 1600 e stiamo parlando in particolare del universo e del cielo stellato, della conoscenza nella storia che gli uomini hanno avuto di questa meraviglia. In questa lezione parleremo del percorso e di come, che modello, cioè che idea c'era di come era fatto nell'antichità fino al medioevo come era fatto l'universo e il sottotitolo come vedete è l'universo delle sfere. Termine geometrico perché in effetti il primo modello, i primi filosofi greci del VI secolo fino a Ptolomeo, si sviluppa una cosmologia che descrive l'universo in termini geometrici. I protagonisti sono Eudosso, Pitagora e tutta la sua scuola e poi anche Ptolomeo. I pitagorici assumono il modello della sfera, forma geometrica perfetta, ipotizzando che la Terra sia sferica immobile e posta insieme all'uomo al centro di altre sfere, che chiamano sfere cristalline, perché trasparenti, sulle quali sono costretti a muoversi i pianeti conosciuti. Questo è il sistema di Aristotele e infatti tutta questa teoria, tutti questi studi che partono nel mondo greco vengono definiti, vengono chiamati modello aristotelico-tolemaico, proprio per dire i maggiori studiosi e filosofi di questo anfilone. Anche Aristotele che vive nel IV secolo a.C. perfeziona questa struttura che aveva geometrica, che aveva dato il modello, e pensa a un universo perfetto diviso in due mondi, quello sublunare, la Terra e l'uomo, soggetto alla corruzione, e quello celeste, che invece è immutabile, per cui incorruttibile, nel quale l'ultima sfera, quella delle sfere fisse, è mossa dal primo immobile, che per Aristotele è il suo dio aristotelico. Questo modello sostanzialmente non cambia nel Medioevo, non cambia all'interno della Chiesa, perché Papa Silvestro II, che vive nel X secolo ed era un matematico, conferma il modello cosmologico greco. E anche la filosofia che nasce nel Medioevo con Santo Maso d'Aquino, che vive 1225-1274, quindi nel XIII secolo, adatta il modello aristotelico alla visione della religiosa cristiana. In che modo? Al sistema aristotelico-tolemaico viene introdotto un decimo cielo, quello dell'Empirio. in questo cielo, che è la sede del trono di Dio, un cielo di fuoco celeste, dove trova posto il trono di Dio. Lo vediamo bene in questa miniatura. E Dio è l'orizzonte ultimo di tutta la realtà, abbraccia tutto il cosmo. Vedete come abbraccia tutto il cosmo con questa sfera di fuoco. Ecco, questo è quello che è il modo con cui anche nel Medioevo veniva rappresentato il cosmo. E lo vediamo ad esempio anche nei bellissimi mosaici di Monreale, quello che vedete a sinistra, dove appunto Dio crea, rappresenta Dio che crea il mondo. E vedete che il mondo è rappresentato come delle sfere concentriche con un centro. E anche nella miniatura tutto è circondato da Dio creatore. Tutto il mondo è circondato da Dio creatore. Quindi anche Dante, che vive dal 1265 al 1321, quindi in pieno Medioevo, età medioevale, la cosmologia dantesca, quella che viene descritta durante il viaggio raccontato nella Divina Commedia, è il cielo, il paradiso, dove Dante compie il suo viaggio, è l'Empirio come lo abbiamo descritto adesso. Trova il massimo dell'Empirio, è la visione di Dio. Dicendo l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi vedete che anche per Dante l'ultima parola della sua grande Divina Commedia è riferita alle stelle. Quindi anche Dante era uno che guardava il cielo, meravigliandosi e stupendosi.